SIGLA Molto bene. Che posso fare per lei? È la sua prima volta? Ok. Immagino che sia un po' nervosa. Sì, un po'. Non si preoccupi, io non mordo. Distesa sul lettino. Ora appoggi i piedi qua. Perfetto. È sessualmente attiva? No, ma vorrei... voglio fare un controllo. D'accordo. C'è qualcosa che non va in Don O'Keefe. Io penso che ci sia qualcosa di strano laggiù. Cosa? Ma che... che cosa ha messo? La storia più agghiacciante per gli uomini dopo attrazione fatale. Premio speciale della giuria come miglior attrice al Sundance Film Festival 2007. C'è qualcosa dentro di me. È letale. Dentata. Cosa? Significa denti in latino. La paura più profonda. È dentro di me! Non avrete il coraggio di guardare. Denti. Non è possibile. Aspetta e vedrai. Non c'è rosa senza spine al cinema.